Volete dare energia radiosità alla vostra pelle? La cosa meravigliosa di questo siero è che voi avete dei risultati immediati. Dopo aver visto la nostra bellissima Susanna, chiedo all'energia di mettere il prima e dopo, che sono super chiari e super esplicativi. Allora, attenzione, perché intanto diamo il buongiorno a buon pomeriggio alla nostra Susanna. Buon pomeriggio Susanna, grazie della collaborazione. Nel frattempo ha scritto anche Enza, che chiede se siero e crema vanno bene anche per una pelle matura e delicata. Amica, questi sono perfetti per te. Pelle matura e delicata sono stati creati apposta. Le pelle mature spesso sono delicate perché si sensibilizzano, perché perdono proprio... Io, cioè, ancora mi meraviglio quando vedessi nuovi prodotti. Uno, perché è un'esplosione anche di piacere. Ricordiamo chi è SBC. SBC è un brand professionale. Questo dobbiamo sempre tenerlo a mente. Quando arriva SBC dentro casa possiamo stare tranquilli, perché questo prodotto lo usa mio marito, lo usa mio figlio, senza nessun problema. Anzi, con una pelle super idratata, super luminosa. Ti dà soddisfazione, ma anche il piacere dell'utilizzo è importante. Certo. Facciamolo rivedere. Vi faccio vedere l'altra volta le spese di spedizione, a meno che non abbiate acquistato anche il prodotto del mese, che le spese di spedizione non le ha. E facciamo bingo in questo. E facciamo bingo. Bingo. E avete tutto, cioè non vi serve nient'altro. No, questo è veramente un contorno occhi strepitoso. È il contorno occhi della linea anti-aging. È, prima di tutto, leggerissimo. D'accordo? Voglio sottolinearlo perché andiamo incontro all'estate, perché l'occhio, il contorno dell'occhio, è una zona molto, molto delicata. Perché, amiche, voi dovete sapere che...